Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Deadpool 3 perché grazie a Disney ho avuto la possibilità di vederlo in anteprima. Ehi! Sveglia! Svegliati! Scemopio! Alzati dai! Svegliati! Annunciato il remake live action di Coraline e la porta magica! Cosa sta succedendo? Sono te dal futuro. E sono qui per salvarci. Futuro? Quanto futuro? Il 2 aprile. 2025? O 2026? Oppure 24... Domani! Sono tornato perché devo evitarti di registrare il video. Cosa? La fake recensione di Deadpool 3 per Pesce d'Aprile? Sì, questo. Che dici? Forse non è diventato un po' ripetitivo fare ogni anno lo stesso Pesce d'Aprile? Oh, un film che non hai visto e che recensisce sul canale? Ah ah ah! Lo scherzo dell'anno. E poi non siamo neanche stati gli unici a farlo su YouTube. In ogni caso non è questa la cosa peggiore, non è il problema. Se ci dovessi lasciar registrare questo video il canale andrebbe in frantumi in un solo giorno. Scherzando ed esagerando con i cameo e con i colpi di scena abbiamo azzeccato praticamente tutto in Deadpool 3. La Disney ha visto il video e ci ha denunciati per spionaggio aziendale, non so nemmeno cosa sia. Giuro, mano sul cuore e non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Mi sembrava un'idea tranquilla, ma una cosa, perché sei qui? Non me l'hai ancora detto? Sì, l'ho appena fatto. Non devi registrare il video. Sì, ma perché sei qui? Hai battuto la testa? Sì, quando sono svenito, svenuto. Tutto ok? Io? Tutto ok? Oh sì, grazie, un po' la testa, ho le gambe che tremano ma niente di pane. La testa? Una domanda. Dimmi, perché sei qui? Non registrare il video. Quale video? Senti, fa come vuoi. Qui però ho scritto delle cose che assolutamente non devi dire nel video. Oh, grazie. Pronto? Ehi, sì, allora, ti sei fermato per un'ora e mezza a guardare quel foglio senza fare un movimento, senza avere una parola, quindi sono uscito che avevo degli impegni da fare andare dal pescivendolo. Pescivendolo. Mh, parola carina. Vende il pesce. 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 Pesce d'aprile. Pesce d'aprile. Domani. È vero, devo ancora registrare il video, per male che me lo sono ricordato. Mi sento un po' debole. Hai la testa. È vero, devo ancora registrare il video. È vero, devo ancora registrare il video. E' vero, devo ancora registrare il video. Grazie a tutti.